Ben ritrovati amici dei telespettatori di Cilento Channel, abbiamo un nuovo appuntamento della nostra rubrica nutrizione e benessere. Questa settimana approfondiamo le proprietà benefiche, le proprietà anche organolettiche, di una specie erittica particolarmente apprezzata, sia dai consumatori ma anche dagli chef in cucina. Stiamo parlando della stipola o anche detto branzino. Cilento è un pesce tipico della zona dell'oceano atlantico orientale ma anche e soprattutto del Mediterraneo, appartiene alla famiglia dei serranidi, ha un corpo particolarmente affusolato, lungo, con una caratteristica di avere alcune macchie al di sopra e al di sotto della linea laterale, può raggiungere circa i 10 kg di peso e anche il metro di lunghezza. Si ciba essenzialmente di piccoli pesci, gamberi, molluschi, vermi, è un predatore abbastanza vorace che da giovane tende più a vivere in branchi, spesso con i cefali, per poi da adulto diventare l'indole un po' più solitario. La riproduzione avviene nel periodo che va da gennaio a marzo e quando si sposta dalle acque un po' più sammastre alle acque più tipicamente marine. Per quanto riguarda le proprietà nutrizionali possiamo dire che 100 g di spigola apportano all'incirco 82 calorie, contiene un buon apporto di proteine e sali minerali come soprattutto potassio, calcio, fosforo, magnesio, zinco, ferro ma anche vitamine come le vitamine del gruppo B e la vitamina A. Chiaramente in commercio le possiamo trovare sia selvatiche che di allevamento. Da un punto di vista nutrizionale quelle selvatiche hanno un minore apporto di proteico e anche un minore apporto di grassi. Vediamo adesso invece quali sono le proprietà. Sicuramente contiene la spigola a poche calorie quindi le possiamo anche considerare delle carni magre che possono essere tranquillamente inserite all'interno dei piani alimentari dietetici. Le carni della spigola sono particolarmente digeribili quindi sono consigliate per esempio a chi soffre di disturbi gastrici ma anche agli anziani. Ha un apporto particolarmente rilevante di Omega 3 quindi aiutano tutta la salute dell'apparato cardiovascolare. Hanno delle buone capacità sia ricostituenti grazie all'apporto in micronutrienti di cui spiccano tre in particolare. Sicuramente il potassio che quindi ci aiuta a contrastare la ritenzione idrica e a mantenere sotto controllo i livelli di pressione arteriosa. La vitamina A che è importante per la visione quindi per l'apparato visivo. il fosforo che è importante per l'apparato scheletrico e poi è anche abbastanza ricco di folati quindi qualcosa che è importante soprattutto per le donne in gravidanza. Non ha delle controindicazioni particolari se non le possibili allergie e magari in caso di origemia alta si consiglia di non farne uso eccessivo. Diciamo che comunque è un pesce che non troviamo ad un prezzo economico e quindi rispetto ad altre ricologie di pesce viene consumato anche meno. Però ricordiamo anche che nell'ambito di una sana alimentazione viene sempre consigliato le 3-4 porzioni di pesce a settimana e la spicola in una di queste porzioni può rientrare perfettamente per tutte le proprietà benefiche che abbiamo detto. con una porzione media che può andare dai 140 ai 160 grammi. In cucina si presta a tante preparazioni soprattutto ricordiamo quella al forno, alla griglia ma anche al cartoccio magari accompagnata con delle salse particolari per esaltarne il sapore. Bene, per altri approfondimenti, per altre notizie sulla spicola vi rimando all'articolo che troverete sul sito e sui social di Cilento Channel così come sulla mia pagina Facebook Studio Nutrizione e Benessere. Vi invito come sempre a scrivere un'email a nutrizionerici.it per chi volesse proporre degli argomenti o fare delle domande su quelli già trattati. Non mi rimane altro che salutarvi, ringraziarvi come sempre per l'attenzione che ponete alla nostra rubrica e arrivederci alla prossima settimana sempre sul Cilento Channel. Ciao!